salve a tutti vediamo se la registrazione partita ok bene allora mi è stato richiesto con relativa urgenza da uno dei vostri colleghi che deve fare il concorso straordinario una delle griglie di valutazione più specifiche per la scuola secondaria di secondo grado quindi ho dato insomma ieri notte questa notte tra ieri notte questa notte ci sto lavorando così insomma chiudo il discorso delle griglie di valutazione poi sono state chieste mini uta metodi compensativi dispensativi per dsa essenzialmente mi sono chiestate chieste delle specificità anche in relazione ai quesiti che sono usciti ricordo 75 punti per 5 quesiti e spero di aver detto bene sì perché 15 mi sembra 15 punti per ogni quesito sono 5 quesiti più 5 punti per l'inglese dove c'è da rispondere e bisogna leggere un testo bisogna rispondere delle domande altri 5 punti 80 centesimi è il massimo allora quindi il titolo che possiamo dare è griglia di valutazione scuola secondaria di secondo grado ho pensato al fatto di essere forse leggermente più lento nello scrivere e nel verbalizzare perché il video è in diretta però anche per una questione di tutti coloro che mi hanno scritto e mi hanno detto a noi va benissimo così perché abbiamo l'opportunità la facoltà di prendere appunti di assimilare di mia di metabolizzare ciò che viene detto cioè non vengono dette espressi centomila concetti sinistra destra cioè con una multimedialità tale per cui si vede il video 100 cose dico 20 ne vengono magari memorizzate ma vengono viste in maniera sequenzale tutte le particolarità e le richieste che mi pervengono anche relazioni concorsi e in maniera lineare ovviamente voi potete anche giocare sul fatto della velocità della riproduzione potete insomma prendere appunti potete scrivere chi non vuole prendere appunti magari si mette l'audio in sottofondo vi ringrazio tantissimo per i commenti siete molti di più a seguirmi e il fatto che siete molti più a seguirmi significa che già la tipicità di questo canale che ho solo il 30 avevo il 33 per cento di persone iscritte adesso sono sceso oltre il 30 per cento vuol dire che oltre il 70 per cento di coloro che seguono il canale non si sono iscritti allora se volete aggiornarvi rimanere aggiornati iscrivetevi e attivate la campanellina così tutte le volte che escono i nuovi video ve lo sapete perché tante volte magari mi chiedete ma è uscito questo video e poi magari esce due giorni dopo e poi una settimana dopo mi dice ma il video ancora non è uscito allora attivate la campanellina e potete vedere tutti i video che escono tanto ma al massimo ne esce uno al giorno ma uno al giorno visto che non ce la faccio quindi uno ogni giorno e mezzo uno ogni due giorni è la media bene fatte queste premesse per rispondere a diversi interventi vostri che meritavano magari anche una risposta non solo come commento scritto ma anche come risposta verbale che magari mi consente di dare una spiegazione maggiore migliore e entriamo nel nella griglia di valutazione l'altra volta siamo partiti da 10 a scalare fino a 4 adesso partiamo da 1 fino a 10 e voglio dare delle scale sia del livello sia del voto e questa volta proviamo a dividerlo per conoscenza abilità e competenze e tutti sapete benissimo che cosa sono altrimenti andatevi a rivedere qualcosa sapete che trovate diverso materiale anche in questo canale quindi conoscenze abilità competenze scusate se nel precedente video una parte della dello schermo non era visibile e ho modificato il software per catturare le immagini e adesso dovrebbe essere tutto visibile poi leggerò i vostri commenti tra l'altro vi invito a leggerli anche invito voi anche invito anche voi a leggerli perché in molti commenti vengono fatte degli approfondimenti e soprattutto invito voi anche a commentarli perché qualora voi riuscite o qualora voi riuscisse a commentare e a dare delle spiegazioni a chi è un po smarrito chi necessita di aiuto vuol dire che le vostre competenze le vostre conoscenze sono di buon livello quindi perché no esercitatevi anche aiutando gli altri come in parte sto facendo io no allora partiamo dal voto li mettiamo insieme voto 1 2 e 3 state attenti non tutte le scuole partono da 1 io adesso per completezza vi metto tutti i voti però solitamente l'uno non viene mai dato allora il livello ovviamente va da nullo a scarso qui facciamo una bella linea a questo punto utilizzo un direttamente una retta così non ho difficoltà a a suddividere in maniera migliore questa tabella che ho creato poi eventualmente gioco un po con lo zoom per fare entrare tutto allora ovviamente nelle conoscenze sappiamo che le conoscenze sono correlate al sapere le abilità è la saper fare cioè la il mettere in pratica la conoscenza saper fare lo ricordo rapidamente e la capacità essenzialmente la somma delle due quindi il l'autonomia delle competenze il saper essere diciamo ok volendo proprio sintetizzare al massimo abbiamo detto che il livello per un voto che vada 1 3 e scarso quindi le conoscenze vanno da non ci sono conoscenze non ci sono fino a un 3 che ci sono c'è praticamente l'assenza dei contenuti fondamentali quindi assenza aumento poco poco lo zoom così ci vediamo meglio assenza contenuti fondamentali benissimo per quanto riguarda l'abilità e abilità non si rilevano o non si c'è nel voto 0 non si rilevano scusate nel voto 1 il voto 0 al momento io non l'ho visto da nessuna parte fino ad un'applicazione pressoché incomprensibile è un'applicazione non logica delle conoscenze quindi abbiamo detto applicazione incomprensibile andiamo alle competenze e ovviamente non si rilevano capacità in merito a quanto viene richiesto nel voto 1 fino a non è capace di effettuare nessuna analisi non è capace di sintetizzare le conoscenze quindi diciamo va sempre anche qui dall'assenza fino all'incapacità di sviluppare conoscenze provo a rimettere lo zoom più piccolo cioè a rimpicciolire l'immagine tanto per avere un quadro completo e adesso cominciamo dal voto 4 che è un voto già linea di massima più utilizzato posso allungare la tabella così viene più precisa l'allungo anche di qua qua già la l'abbiamo allungata l'allunghiamo un altro po ok e io direi che così abbiamo una bella tabella chiara non abbiamo difficoltà prendiamoci un po di spazio per il voto 4 ok sicuramente c'è una grave insufficienza come livello grave insufficienza per quanto riguarda il sapere ovviamente il sapere frammentato ci sono errori significativi e contenuti non esposti quindi la conoscenza o il sapere frammentato comincia ad esserci la presenza di alcuni contenuti però ci sono errori concettuali significativi contenuti non esposti o esposti male quindi non c'è rigore non c'è coerenza relativamente alle abilità l'applicazione è incompleta e parzialmente non logica applicazione la logica è parziale comunque se vi ricordate l'altro video ovviamente qui siamo per una scuola secondaria secondo grado però non cambia a mio avviso molto rispetto a una scuola secondaria di primo grado errori concettuali nelle esecuzioni gravi quindi errori esecutivi tenete bene in mente che voi non avete tutto il tempo per andare a specificare o per fare una tabella di questo tipo me l'avete chiesto io ve la sto facendo però cercate di pensare a come declinare tale tabella come risposta ad un'eventuale richiesta di valutazione nel concorso nella prova scritta quindi ovviamente potete che ne so usate i due punti mettete un livello grave e ovviamente cominciate a scrivere però non perdeteci troppo tempo cioè cercate di avere un'idea di massima relativa ad ogni voto e la preparazione io penso che sia che vada bene poi per voi dico nel senso che non è che vi dovete imparare a memoria tutte le casistiche tutte cioè non è che avrete dei professori che sono pronti lì con la mitragliatrice che se un qualcosetta è sbagliato allora non vi danno un buon voto no cioè certo non potete mettere le abilità cioè ottime abilità ad un voto 4 ovviamente si parla sempre cioè già che avete capito che un voto 4 è un voto di grave insufficienza mentre un voto 5 che rappresenta la mediocrità è una sicuramente un'insufficienza ma non grave e la sufficienza ovviamente il voto 6 insufficienza quindi ovviamente giocate con questi dati no insufficienza nelle conoscenze nelle abilità nelle competenze ma voi sapete che cosa sono le conoscenze le abilità le competenze da lì sviluppate la traccia quindi vedete come poi tutto si ricollega e come potete diventare molto più rapidi nella risposta e nelle specificità che vi vengono richieste per quanto riguarda le conoscenze scusate le competenze voto 4 vengono fatte analisi e sintesi parziali di imprecise ovviamente se è guidato lo studente in questo caso lo dovete dire quando il voto comincia a essere tra 4 e 5 cioè lo studente viene guidato e però non esprime valutazioni approfondite quindi abbiamo detto analisi e sintesi insufficienti lo studente se è guidato esprime valutazioni non approfondite valutazioni superficiali dai benissimo voto 5 abbiamo detto insufficienza frammentarietà dei contenuti minimi con errori concettuali quindi conoscenze frammentarie che abbiamo detto che ci sono errori di concetto l'applicazione logica nell'abilità rappresenta e caratterizzata errori gravi o errori comunque percepibili quindi mancanze logiche però si comincia a vedere qualcosa nell'esecuzione quindi sì ci sono errori esecutivi però esecuzione parziale poi guardate bene la griglia di valutazione potete pure crearvela voi cioè dipende anche dalla materia in realtà io ve l'ho fatta anche per lo strumento musicale a mio avviso anche per la lingua inglese deve andrebbe effettuata una griglia di valutazione specifica anche perché no anche per la geometria soprattutto per la geometria oclidea che è totalmente differente dalla geometria analitica e dalla dall'algebra cioè è ovvio che queste sono delle linee di massima io poi vi invito a caratterizzare le vostre griglie di valutazione in funzione della vostra classe di concorso per quanto riguarda le capacità le sintesi e le analisi ci sono ma non sono perfette non sono giuste quindi sintesi e analisi imperfette le valutazioni cominciano a essere espresse ma continuano a essere superficiali non sufficienti quindi valutazioni non sufficienti andiamo avanti voto 6 finalmente si arriva alla sufficienza mettiamo una riga e andiamo a vedere le conoscenze le abilità e le competenze quindi le conoscenze sono applicate nell'esecuzione dei compiti semplici in maniera autonoma quindi applicazione autonoma di livello ovviamente sufficiente non ve lo scrivo tanto non avete capito per quanto riguarda le abilità le conoscenze vengono applicate però ovviamente per compiti semplici ma sempre in maniera autonoma quindi applicazione delle conoscenze e per quanto riguarda le capacità sicuramente comincia lo studente ad analizzare e sintetizzare in maniera corretta le conoscenze minime acquisite analisi e sintesi sufficienze sufficiente delle conoscenze minime perché siamo proprio alla sufficienza delle conoscenze conoscenze minime e le valutazioni vengono argomentate sicuramente ma in maniera parziale sufficiente quindi valutazione valutazioni sufficienti andiamo avanti rimangono il 7 l'8 il 9 il 10 allora ampliamo qui la tabella andiamo un po' più giù cerchiamo di fare entrare il tutto ok ah mamma mia l'ho fatta assorta scusate mettiamo la retta così non mi sbaglio continuiamo con la retta quindi per il voto 7 retta per il voto 8 retta per il voto 9 e dai ce la facciamo entrare tutte e retta voto 10 benissimo 7 8 9 10 vediamo i livelli quindi ricordate tanto pure a noi per un periodo ci hanno valutato così discreto buono diciamo distinto mettiamoci l'ottimo direttamente qua e qua ci mettiamo eccellente qui inseriamo l'eccellenza quindi adesso andiamo per colonna dai così eh modifichiamo anche leader processuale del del video conoscenza ovviamente i contenuti sono minimi e solo taluni argomenti vengono approfonditi quindi conoscenza minima con approfondimento parziale approfondimento parziale approfondimento parziale lascio pure un segno simbolico che a volte circa ok buono conoscenze complete e cominciano ad essere anche approfondite mettiamoci un e ovviamente complete approfondite e organiche le conoscenze e qui è uguale a prima però ci comincia a essere anche la parte personale di rielaborazione personale quindi conoscenze complete e approfondite organiche e considerazioni personali vengono personali cioè vengono rielaborate quindi c'è ovviamente un livello maggiore qui si nel voto 7 vengono applicate le conoscenze in modo sostanzialmente corretto però nei casi più complessi non c'è non è sempre presente l'autonomia quindi applicazione quindi applicazione conoscenze in maniera sostanzialmente corretta in modo sostanzialmente corretto nel voto 8 soprattutto le conoscenze vengono applicate in maniera corretta e autonoma e anche nei casi più complessi quindi applicazione conoscenze in maniera corretta e autonoma in maniera in maniera mettiamoci una spunta in maniera che va bene insomma nel voto 9 le conoscenze vengono applicate correttamente però anche in casi complessi e rispetto anche a situazioni nuove quindi applicazione ovviamente delle conoscenze in casi complessi e nuovi nel voto 10 sicuramente si ripete il voto 9 però c'è anche la valutazione della soluzione più di guada rispetto al caso quindi una grande capacità di problem solving ci scrivo qua più problem solving quindi analisi delle soluzioni e scelta della soluzione più adeguata al caso andiamo alle capacità voto 7 le analisi sono corrette le sintesi coerenti le valutazioni sono argomentate in maniera semplice e lineare quindi analisi e sintesi corrette giuste insomma le valutazioni scusate le valutazioni le valutazioni sono semplici e lineari valutazioni semplici e lineari il voto 8 sicuramente le analisi vengono affrontate in maniera corretta sintesi corrente le valutazioni vengono adeguatamente commentate analisi sintesi 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 e valutazioni buone l'ho detto prima potete giocare tra i livelli il voto e quello che richiede l'abilità il voto manca il 9 quindi le analisi e le sintesi sono corrette le valutazioni sono personalmente argomentate quindi sicuramente le analisi e le sintesi sono perfette valutazioni personali si aggiungono anche le valutazioni personali nel massimo dei voti sicuramente le analisi corrette le sintesi coerenti ma cominciano anche ad essere originali quindi c'è originalità la valutazione viene argomentata in maniera personale e personalità personalizzazione insomma lo studente comincia ovviamente ad essere ad avere spirito critico relativamente a tutto ciò che impara benissimo io con questo video vi saluto prima spendo due chiacchiere per quella per la situazione che stiamo vivendo sapete che tra lunedì sera e martedì sera uscirà un nuovo dpcm sappiamo che probabilmente anche cioè le scuole superiori avranno una didattica a distanza del 100% scuole medie probabilmente o dalla seconda terza media andranno a didattica a distanza o solo terza media probabilmente la prima media rimarrà con didattica non a distanza quindi didattica ordinaria le elementari scuole medie elementari scusate le elementari rimangono in presenza e anche le materne credo che per le elementari non so per le materne ci sarà l'obbligo di mascherina per le materne l'obbligo di mascherina sinceramente allora vi dico i dati ancora non sono chiari perché da quello che mi sembra di capire la maggioranza è relativamente divisa il PD tende a voler chiudere di più il Movimento 5 Stelle tende a voler aprire di più Conte è una via di mezzo perché per esempio per la scuola tende ad aprire di più però per il coprifuoco avrebbe voluto farne uno più stringente mi è parso di capire per le 18 invece vorrebbe forse il PD vuole che il coprifuoco venga fatto alle 21 poi c'è un problema anche con le regioni relativamente al lockdown mirati o meno sicuramente c'è un problema vero chiaro per tutti quelli che stanno facendo il concorso e che si devono spostare di regione un problema enorme per quelli che sono in quarantena che non possono nemmeno fare il concorso e purtroppo a mio avviso chi sta all'opposizione non cerca cioè non dico che fa propaganda elettorale ma nemmeno a mio avviso sta cercando di collaborare in maniera cooperativa collaborativa mi sembra insomma che l'opposizione sicuramente dice sostiene cose vere la mancanza cioè trasporti parzialmente funzionali si poteva fare di più eccetera eccetera però è vero che si può fare sempre di più però ricordatevi che il Movimento 5 Stelle nacque come il partito dei Vaffa no? dove tutto doveva essere fatto meglio poteva essere fatto meglio poi quando sono andati al governo si sono dovuti scontrare con la realtà e poi ovviamente hanno anche fallito in tante in tanti obiettivi però devo dire che a mio avviso è probabilmente uno dei partiti più puliti più forse anche meno corrotti anche se la corruzione fa parte dell'essere umano ovviamente il Movimento 5 Stelle è fatto di esseri umani quindi ovviamente non si riesce a estinguere e a debellare completamente la corruzione che purtroppo fa parte anche della classe politica per quanto riguarda l'opposizione forse ci sono toni un po' più pagati da parte di Berlusconi Salvini e Meloni insomma Salvini a mio avviso cambia troppo spesso quindi non lo so fino a quanto può essere un punto di definimento in questo periodo la Meloni a mio avviso ha delle linee che sono più coerenti nel tempo però sicuramente anche lei ad agosto settembre probabilmente sottovalutava il procrastinare dello stato d'emergenza sottovalutava il problema del virus c'è da dire anche che ormai tanti virologi che sono diventati famosi ne hanno detti di tutti i colori c'era chi a luglio agosto diceva insomma che il virus era sconfitto in maniera definitiva ma sappiamo che purtroppo così non è e questo virus purtroppo ci sta cambiando un pochettino il modo di vivere cosa fare io le soluzioni non le ho a volte per me quindi figuriamoci se le ho per voi perché secondo me si entra nella presunzione se ognuno di noi comincia a dire ecco basta fare così e si risolve tutto basta chiudere le scuole e si risolve tutto è tutta colpa del ministro dell'istruzione oppure è tutta colpa di Conte oppure è tutta colpa cioè non è così che si a mio avviso che si ha una visione globale no? la sanità e la scuola per quanti anni hanno fatto saving? per quanti anni hanno risparmiato sulle strutture pubbliche hanno licenziato personale hanno chiuso ospedali per quanto riguarda la scuola i professori sono sempre stati ridotti all'osso si parla di supplenti si parlava di supplenti da 10 anni fa si parla di supplenti mancano l'assunzione di più di 200.000 docenti il sostegno è un caso patologico tante volte l'alunno cambia 10.000 insegnanti e comincia ad avere insegnanti di sostegno definitivo a febbraio marzo a volte nemmeno la situazione della scuola è grave anche degli edifici scolastici del riscaldamento del non ci sono termoscanner non ci sono posti dove igienizzarsi le mani io dico in linea di massima perché poi qualche scuola ovviamente magari riesce anche a fare questo sicuramente non danno ai docenti mascherine più costose KN95 FFP2 o FFP3 che sicuramente ridurrebbero l'esposizione rischi degli insegnanti e quindi con una mascherina chirurgica semplicemente se si fa per esempio una ricreazione in quei 10 minuti gli studenti si levano la mascherina purtroppo se c'è qualche caso positivo ci possono essere dei contagi tant'è che molte le classi che sono andate in quarantena il più delle volte ci sono andate per motivi precauzionali non perché tutta la classe si era ammalata però è ovvio che se i medici se gli esperti decidono di mandare una classe in quarantena quando uno studente è positivo al covid significa che solo le mascherine e solo quello che si sta attuando non è sufficiente cioè noi docenti ci stiamo continuamente esponendo a questa situazione grave però c'è anche da dire che la scuola è importantissima non so fino a che punto avrebbe senso di parlare di didattica a distanza per la scuola materna e per la scuola elementare forse per le scuole medie può cominciare a diventare sensato parlare di didattica a distanza anche per un periodo magari circoscritto e limitato per la scuola superiore e per l'università sicuramente si può attuare con più facilità a volte ecco un'altra ingiustizia i docenti precari non hanno un bonus docenti quindi non ha lo strumento per per la connessione per il computer lo devono comprare da sé cioè non è che se andiamo da un medico all'ospedale gli strumenti li paga il medico qui purtroppo eh tanti insegnanti tutti gli anni eh sono formidabili perché mandano avanti la didattica e poi magari si devono comprare gli strumenti da solo per cioè un tablet un computer una tavoletta grafica una webcam la connessione internet se la devono pagare da sé non non c'è nulla non viene dato nulla eh tante ci sono tanti ritarti con i pagamenti noi pa si blocca in continuazione molti docenti non molti docenti ancora non non sono stati molti docenti non sono proprio stati inseriti nell'archivo noi pa e quindi tante cose peccano non vanno bene ma non è nemmeno colpa del della dell'agenzia delle entrate non è colpa insomma del della tesoreria di stato non è colpa di chi lavora su noi pa eh del ministero delle finanze c'è purtroppo anche lì eh le risorse umane scarseggiano e stanno soffrendo tutti i settori soffrono tantissimo l'università che hanno meno iscritti e soffrono soffre tanto l'economia che in realtà nel nel trimestre è andata molto bene però ovviamente questo virus eh limiterà il 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 pillo italiano e sicuramente cioè da dire che forse parte delle responsabilità sono anche dovute a tutti tutte quelle persone che hanno sono andate in giro senza mascherina si sono viste si sono eh contagiate tra di loro se ne sono fregate di di tanti problemi e e hanno creato problemi pure magari chi è stato più rigoroso cioè non c'è omogeneità anche da parte dei cittadini a volte non c'è quindi quella quella moralità di dire vabbè eh fatemi stare attento per me e per tutti eh quelli che mi girano attorno per tutte le persone che soffrono e soffrirebbero tantissimo per un nuovo lockdown o comunque soffrono per le limitazioni eh che poi fanno chiudere magari delle attività produttive che distruggono la vita delle persone perché magari eh lavorativamente parlando il non hanno più possibilità di andare avanti ecco queste sono le mie riflessioni io devo anche fermarmi perché voi spesso mi chiedete mi dite stai facendo un video su questo argomento non dilagare però alcuni di voi eh non tutti allora io mi prendo la pausa alla fine per dire quello che penso perché noi viviamo anche in un mondo grave non stiamo andando tendenzialmente andiamo sempre nel verso del tutto del del subito cioè noi vorremmo imparare tutto e subito ci vogliamo una cosa vogliamo cliccare vogliamo imparare eh vogliamo avere solo una schermata sarebbe penso che alcuni di voi sarebbero felicissimi che in un minuto di avere la possibilità di vedere una schermata di una persona che parla rapidissimamente e che dica tutto ma ci vuole un tempo per metabolizzare un tempo per confrontarsi un tempo per valutare un tempo per eh prendere direzioni per correggere altre eh questioni un tempo per eh per maturare ed è bello anche che eh in questo canale questo canale non sia solo un canale nozionistico ma ci si eh ci sia un tentativo di aprirsi al dialogo un tentativo di aprirsi eh con i pensieri un tentativo di aprirsi con ciò che sono e con ciò che siete voi eh esseri umani che hanno degli alti dei bassi che che possono avere una motivazione fluttuante che possono avere determinati problemi che hanno determinate visioni della realtà che non sanno bene cosa fare che si sentono bloccati che eh non sanno bene se l'insegnamento è il lavoro che amano perché sicuramente potrebbe essere un grande errore e entrare eh cercare di diventare insegnante e poi non amare l'insegnamento quindi eh è ovvio che a mio avviso tutte queste considerazioni non sono secondarie queste queste considerazioni fanno parte noi l'abbiamo visto anche nella griglia di valutazione di originalità di personalità di risolvere problemi nuovi di fare delle considerazioni personali beh noi dobbiamo essere i primi a farle queste considerazioni personali non siamo eh un robot nel nel quale inseriamo i dati siamo solo nozionismo e è solo quello è quello che va divulgato io una cosa del genere non la farò mai perché non fa parte delle mie note non fa parte del mio spartito non fa parte del mio carattere e ho la libertà insomma di e sono proprio felice questa sono questa è stata la mia scelta di evitare di collaborare con case editrici evitare di eh avere troppi paletti ed avere insomma invece la libertà di perseguire eh la mia che non dico che sia giusta però la mia filosofia la mia etica la mia moralità e niente eh non so quanti avranno ascoltato tutto il mio discorso ovviamente i commenti che mi lascerete qui sotto sono assolutamente ben accetti pure i commenti relativi alla al mio pensiero e se volete insomma esprimere il vostro punto di vista avete la più completa libertà di scrivere tutto quello che volete non viene censurato nulla anche le critiche vengono eh lasciate quando mi dite scusa ma io non condivido ma mica mi dovete chiedere scusa se la pensate in maniera diversa o seppure avete dei commenti da fare o delle cose che magari voi ritenete sbagliate anzi fate benissimo non non è un canale nel quale bisogna avere paura di dire ciò che si pensa e ecco l'unica cosa magari eh a mio avviso è bene ma essenzialmente mi sembra che a parte un commento su 10.000 è bene non essere volgari non usare parolacce insomma è un canale di docenti è bene secondo me usare sempre un un modo di interagire rispettoso degli altri con questo io adesso vi saluto e vi auguro una buona notte o un buongiorno o una sicuramente una buona continuazione di giornata e e niente alla prossima